I got options, I can pass that bitch like Stagga Tutti i futuri NBA 2K, me lo immagino anche per un 25-26 posso tornare utile a questo video Perché come avete visto dal titolo, anche se non so bene che titolo abbia ancora questo video Sarà una serie infinita di tips and tricks, di alcuni trucchi, di alcune cose magari più nascoste del gioco Che magari vi possono aiutare e che probabilmente se siete qui state cercando Intanto mi farà piacere un bel mi piace per farmi sapere se avete apprezzato l'idea E soprattutto se vi sarà utile, a maggior ragione fatemi sapere nei commenti cosa avete trovato O cosa non avete trovato, che magari vi posso rispondere lì O troverete magari qualche commento in evidenza con qualcosa che ho mancato adesso E che verrà in mente fra un mese, due mesi, tre mesi Andremo modalità per modalità, ma prima di tutto cominciamo con le opzioni dal menu principale Che sono importanti pure queste Perché, a parte banalmente andare a cambiare la difficoltà e andare a cambiare tutte le valutazioni di tiro Dell'indicatore, dell'animazione, della vibrazione dell'inquadratura Dove sta l'impeto, dove sta il rilascio, cosa c'è e cosa non c'è Impostazioni controller, dove potete andare anche a modificare questa cosa qui Indicatore grafico, tempismo di tiro Molto importante perché dipenderà la vostra capacità di fare verde da questa impostazione Io sto giocando per adesso con punto fisso, che è quello in cui mi ci sono trovato meglio Levando il rilascio siamo al 20% in più di possibilità di fare verde Giocate con punto fisso, caricamento, rilascio e saltare per capire quale vi trovate meglio Questa impostazione indica praticamente il momento in cui voi dovrete rilasciare il quadrato o la levetta per tirare Poco sotto trovate anche come cambiare, vedete qui, il tipo di rilascio che vedete vicino al giocatore Io vi consiglio di levarlo, ma se volete qui potete metterlo, vedete, laterale, vicino alla testa Medio, grande, piccolo, colore, tutte queste cose qui Dal menu delle opzioni potete già cambiare anche una cosa che mi chiedete molto Ovvero come far apparire gli schemi da parte del coach e farli vedere come ci gioco io di solito La playvision deve essere non solo schemi giocatore ma schemi tutti E visuale playvision completa Messaggi decisioni tattiche tutte e qua potete mettere manuale offensive Io di solito metto auto ma dipende un po' anche dalla modalità Però diciamo tutto auto così siete a posto perché vi appariranno tutti i movimenti che dovete fare degli schemi sul parquet di gioco Nell'indicatore CPU utente qui non è importantissimo perché sono quelli di base Ma con triangolo, carica impostazioni, andrete a scaricare delle sliders che magari vi servono per un qualcosa Non so cosa sia NBA o TNT però vedete ci sono per dire quelli della realism sim Che potete provare a scaricare e provare a giocarci col giocaora nella modalità giocaora con queste sliders Per testarle e poi magari scaricarle nella My League, quello ci arriviamo dopo Altra cosa molto importante è questa seconda riga qui di informazioni Perché qui potete andare a creare un giocatore che non è quello della MyCareer Ho creato al volo questo Donald Berry giusto tanto per dirvi cosa? Per dirvi che in modifica giocatore voi cosa dovete andare a fare? Dovete andare a esportare il DNA del giocatore Mettiamo che vi siate creati voi per la vera MyCareer, per una carriera simulata O abbiate creato una versione alternativa di un giocatore Che ne so se Steph Curry fosse alto 2 metri e 10 Ecco, esportate, aggiungete un nuovo giocatore Trovate, mettete, salva per lasciarlo offline Salve e condividi se volete che qualcun altro lo provi Lo salvate con un vostro nome e ve lo trova qui Questo a cosa serve? Adesso io annullo tutto e torno indietro Crea classe draft se volete mettervi nel draft Oppure crea roster se volete mettere quel giocatore che avete creato direttamente in un roster Io faccio la classe draft, faccio creata da utente Scarico quella di Jackmove che è la prima se voglio metterlo nel 2024 Se no lo si può mettere da un'altra parte E con modifica giocatore su uno a caso Andate in importa DNA giocatore Carica scarica DNA giocatore E ne i miei file che andrete a destra con R1 due volte dopo nuovo Qui non ci sarà niente perché io non l'ho salvato Ma qui troverete il salvataggio che vi avete dato il nome prima Fate X, accetta le modifiche, insomma approvate quello che vi chiede E vi trovate il vostro giocatore nella classe draft Che a sua volta poi ovviamente con cerchio per uscire vi dirà Cosa vuoi fare? Salva classe draft La salvi Ci dai un nome E poi devi stare attento di ricordarti che questa è la classe draft Che devi andare a scaricare nella My League Nell'ER Nel My GM Perché questo funziona anche su PS4 Fate quello che vi pare ovviamente E diciamo che non siamo neanche entrati nelle modalità Ma già un po' di cose ve le ho dette Cominciamo dalla My Career Dove forse ho meno cose da dirvi La prima la possiamo vedere già nel menu principale Perché metti caso che vi scompaia il nome della build O vi cambi completamente la fisionomia del giocatore E' molto più semplice tante volte Creare una nuova build a 60 di overall A caso proprio mettete gli attributi a caso Ma potete cambiare il nome e la faccia che ritroverete Se avete per dire scannerizzato la vostra nell'app La ritroverete nella nuova build Uscite da questa nuova build Una volta che avete fatto tutte le robe Siete entrati nella città O nel parco Questo va bene lo stesso Se siete su All Gen Io tutto questo lo sto dicendo per PS5 Xbox Series X Uscite e ritornate nelle vecchie build E in teoria vi è tornato il nome Vi è tornata la faccia O entrambe le cose Mi è successo varie volte nel corso degli anni Magari stavolta non succede Ma io ve lo dico Apro la mappa Perché devo dirvi un'altra cosa Riguardo alla My Career Non trovate il giro della ruota Quella cosa giornaliera Che vi dà il premio Non lo trovate Tranquilli E' perché inizialmente non lo vedete Neanch'io non lo vedo infatti Perché non sono ancora entrato In una delle due fazioni Quest'anno La ricompensa giornaliera è nascosta Dietro alle fazioni Quindi dovete completare Una delle due missioni Di Rise o Elite Io ho scelto Elite Devo fare Vincere 10 partite E fare 100 punti Nei campetti di Elite Una volta fatto questo Entrerete nella fazione O come si chiama E avrete la ricompensa giornaliera Poi se state cercando Qualche consiglio Su come fare la propria build Questo non è il video giusto Ma in descrizione Magari apparirà da qualche parte Qui il video invece c'è Che vi dà almeno Un'infarinatura generale Con qualche dettaglio in più Su come creare la vostra build Non vi faccio vedere Una in particolare Ma vi do qualche spiegazione Generale Che vale per tutti i ruoli Aggiungo un'altra cosa Come avere il badge Più che il badge L'attributo Insomma La specifica Della Mamba Mentality Dovete completare Tutti gli esercizi Per i badge Per le attributi Quelle cose che vi dà da fare Nella palestra di Brickly Che sono 3 o 4 esercizi Se non ricordo male E nella palestra di The Art of Shooting Eccolo qua Quello di Lethal Shooter Dovrebbe essere Una volta completati Tutti gli esercizi Dovreste ottenere La Mamba Mentality Quella che poi Offline vi dà la possibilità Di scegliere No scusatemi Di non scegliere appunto Ma di avere un upgrade A tutte le categorie Quando avete l'impeto Questo badge Dov'è di qua Che vedete Questa missione qui Dico una cosa Che magari è banale Ma magari non lo è Quando dovete andare a cambiare L'aspetto del vostro giocatore Ricordatevi che Dopo che avete acquistato Sia i vestiti Ma soprattutto Anche le animazioni I movimenti Dribble style E tutte quelle robe lì Dovete andare A equipaggiarle Nelle animazioni E le troverete Categoria per categoria In questa In questo Questa schermata qui Che mi rendo conto Essere confusionare Ma dovete ricordarvi Cosa avete comprato Se non stile di passaggio Stile di palleggio Valutazione Virata Tutte queste cose qui E man mano Le troverete qui Vedete io non ho comprato niente Al momento Le trovate tutte lì Su personalizza H UD Alla fine di sempre Questa schermata qui Avete anche tutte le possibilità Di personalizzare Dove vedere il rilascio Se rilascio verde Col fuoco Con la palla L'indicatore sotto L'indicatore La valutazione di tiro Il percorso La scia del pallone Che sbloccate durante il pass Insomma Tutte queste robe qui Le modificate qui Cambiando la modalità Andando sul my team Quest'anno c'è da dire Che è cambiato talmente tanto Il my team Di embedded k24 Che anch'io sto facendo Difficoltà Ad orientarmi Innanzitutto Ricordatevi che Nella sezione home Su legendary path Vedete che c'è Agende Scritto in piccolo Ma ci sono le agende Semplicemente Non danno più l'xp Perché l'xp Si fanno solo E unicamente giocando Una cosa che sicuramente Vi lascerà perplessi Come lasciato perplessi E le evoluzioni Le evoluzioni Che quest'anno Le trovate in modifica Giocatore Non chiedemi perché Però dovete andare A cambiare giocatore Qui Premere option In cerca collezioni E vedrete che Scorrendo verso il basso Avrete evoluzione Poi andate su Possiede evoluzione E trovate tutte le carte Che sono evolvibili Premete su quella Che vi interessa E andate a evoluzione Andate a capire Cosa vi serve Qui sopra di me Una doppia doppia In partita singola Una cosa importante Che posso dirvi però Che funziona come gli anni scorsi Ma questo è sempre Importante da fare Nella gestione formazioni Mettete una Caso Non è importante Con R1 Andate su franchigia E poi su gestione squadra Qui Piano Allenatore L'hanno nascosto Qui quest'anno Qui potete andare a cambiare Io vi consiglio di mettere Oppressa o stretta Su tutti Perché come vedete Dalla cosa Stanno più vicini I giocatori Così per tutte le partite Che andrete a giocare Avete le impostazioni Già fatte Poi adesso non sto a dirvi Quali impostazioni mettere Perché anch'io Devo ancora capirci bene Sto registrando questo video A 4 giorni Dall'uscita del gioco Questa è una cosa Che va sempre messa Secondo me Poi il resto Magari ne possiamo riparlare Premendo cerchio Tornate qui E in tutte le partite Che giocherete Con questa formazione Avrete le impostazioni salvate Tornando nel menu principale Per il My Team Ripeto Potremmo parlarci più avanti Perché è cambiato tanto Anch'io dovevo scoprire tante cose Momenti del mamma Non c'è niente da dire Entriamo nella parte Più succosa E più grossa Di questo video Ovvero Le R Quella che è la My League Nella vecchia generazione My League E My GM Innanzitutto Questo è il menu Sono due cose importanti Da segnalare La mia MBA È la modalità classica In cui si può andare a scegliere Le R I rebuild Le simulazioni Avanti Ma i 2k share Sono gli scenari Che vedete Si possono andare a scaricare Dagli utenti Ed è qui Che io trovo High school College Con triangolo Andate a cercare Il nome del contenuto Cerchiamo Per dire una cosa stupidissima Che di solito Si trova sempre NCA Magari è un po' presto Sì esatto Nessuno l'ha creato Perché è presto nel gioco Ma mettiamo che trovate All time fantasy Premete X E andate a Scaricarlo E vi si aprirà Appunto questo scenario Oh che belli questi loghi Non so come siano fatti Questi roster Ma vedete che trovate Questa cosa qui E qui potete andare A fare trade Simulazioni Mettere il vostro giocatore Tutto quello che volete Con gli scenari Appunto E da qui in poi Funziona come una normale simulazione E già che siamo a profitto Visto che qui Non ci ha chiesto La classe draft Perché è uno scenario Cosa si fa? Cerchio per aprire il menu Osservazione Osservazione promesse Vi porterà Ah no Qui le ha già caricate Quello che ha fatto lo scenario Ma mettiamo che non siano Quelle giuste Cliccate X Su un giocatore Qualsiasi carica Scarica classe draft Ricordatevi di farlo all'inizio Perché poi una certa Non si può più fare Classe draft Creata da utente E si va a mettere Quella 2024 Di Jackmove Per dire Adesso caricherà Ed eccola qui E la stessa Me ne rendo conto Ma se non ci fosse stata Avevate adesso Quella giusta Andando nella mia NBA Troveremo invece La classica cosa Vi consiglio Per l'era Magic L'era Jordan L'era Kobe Di scaricare I roster Quando inizierete La modalità Adesso vi porterà Qui dentro E avremo le varie Impostazioni da modificare Eccoci qua Con triangolo Si va alle opzioni Qui vi consiglio Di mettere il roster Personalizzato Così come Personalizza impostazioni Semplici e avanzate Perché questo Perché 2K Non ha i diritti Per molta parte Dei giocatori Adesso ovviamente I roster Non sono stati ancora fatti Perché è troppo presto Nel gioco Ma vi consiglio Di scaricarlo Perché così Avrete i Chassbar Crivera dei Divats Chris Webber Che magari 2K Non ce li ha nel gioco Una volta premuto Option Dopo aver Messo tutte le impostazioni Che vi pare Vi porterà In questo schermato Dove potete andare A rendere automatici I periodi Dell'off season Ma questo ve lo sconsiglio Potete andare A togliere i contratti Con no Togliere il tetto salariale Insomma qui Potete andare a modificare E questa è una cosa Importante degli scambi Perché vedete Che offerte di scambi CPU Ma anche scambi CPU CPU Se volete Potete mettere L'approvazione dei scambi Potete cambiare La frequenza Degli scambi Questo Anche importante Se state facendo Un Fanta Draft Che è una cosa Che mi dimentico Anch'io tante volte Scelte al draft Precedentemente cedute Cosa vuol dire Che se fate no Tutte le squadre Della vostra Lega Riavranno Tutte le scelte A draft Come se L'NBA Fosse stata Resettata Da zero Per quanto riguarda Le scelte E nella difficoltà Potete cambiare Un po' di cose Come per dire La tendenza Di reingaggio Gli effetti Dell'affiattamento Gli effetti Degli infortuni Che io di solito Abbasso Qui potete cambiare Un po' di cose Così come anche La difficoltà Simulatore Per rendervi le cose Più difficili Potete cambiare Anche questa cosa qui Adesso Da dentro il menu Sempre su Opzioni Potete andare in Regolazione Indicatori Per scambi Contratti Progressi Attibuti E cpu Utente Che dove ha senso Qui scaricare le sliders Quelle che vi dicevo Nel menu principale Sempre con triangolo Sempre vi cercate Quelle che vi piacciono di più O che avete provato prima E le potete applicare qui Eccole qua Vedete come sono cambiate Sempre da opzioni Questa volta in Impostazioni E squadra Potete andare A far diventare La vostra MyLeague Un MyGM Per la next gen Andando a mettere Le strutture L'impostazione dei prezzi Budget Il morale La fiducia Le abilità Gli incarichi E tutto quanto Mi sa che non ci saranno Neanche quest'anno Le chiacchiere Tra Con i giocatori Queste cose qui Che puoi fare Che rovinano un po' Non è più effettivamente Un MyGM Però Va così Se volete che la cpu Faccia tutto da voi Volete ricreare La vera MyCareer Dovete andare A automatizzare Qui sempre con R2 Mi sono spostato Impostazioni automatizzate Squadra Andare a mettere Tutto sì In maniera tale Che voi abbiate Solo e soltanto Da giocare Poi però Farà tutto Vedete Tutto sì Tutte le fasi Della stagione Le fa tutto sì Poi dovete stare Alla volontà Della cpu E sempre nelle impostazioni Avremo anche Posizione Che dove Vi Permette Di giocare La vera MyCareer Perché dovrete andare A mettere Il vostro giocatore Nel roster Cliccate Adesso prendo Su quello dei six Su corkmaz Quello che vi ho detto prima Modifica giocatore Importa DNA giocatore E trovate il vostro Che avete caricato Nel menu Delle opzioni Delle creazioni Giocatore Lo salvate E poi In Dicevo Opzioni Impostazioni Posizione Lo cercate Qui Io adesso Metto Corkmaz Che sarebbe Quello sostituito Da noi E facendo così Giocate Solo Unicamente con lui Quando sarete in panchina Vi simula Quello che ho fatto io L'anno scorso Nella vera MyCareer Guardando adesso Alle trade Io Quello che faccio Sempre è andare a cambiare Ruolo ai giocatori Lo fate con option Molto banalmente Cliccate Conferma E poi andando sul ruolo Con la levetta destra Potete cambiare E vedere un po' Come varia L'overall In base Al ruolo Per capire Un po' Di provare A tradeare i giocatori Nella loro Miglior overall Possibile Fate attenzione Perché Quando andate a scambiare Delle scelte Anche tante volte Al draft Adesso per dire Forse l'hanno fixato Però Si inverte la visuale Cosa che mi ha abbastanza Rincoglionito Nel primo rebuilding Che ho fatto Soprattutto al draft Quindi occhio Potrebbero averlo pacciato Potrebbe essere cambiato Nei prossimi giochi Ma io ve lo dico Occhio Che ogni tanto Con le scelte Soprattutto al draft Le vostre scelte Le trovate a destra Invece che a sinistra Quindi quello che a sinistra Non è più quello che voi date via Ma quello che ricevete Non in questo caso Ma Occhio Volete Far tornare Si atto Il super solid NNBA Non c'è problema Amministrazione Trasferimento squadra Design squadra 2k share Volete creare una vostra NBA totalmente diversa Da quella creata Nella realtà Ecco Scarica scarica Al solito E trovate quelli che sono fatti Degli utenti Ce ne sono fatti davvero Di belli Per dire mettiamo Questo qui Così X Visualizza Scarica design Date un'occhiata Vi piace Non vi piace Con X Lo scaricate Sarà da aspettare un attimo E soppianterà i 76ers Olè Vedete che qui sopra Alla destra Sono utilizzati i Ravens Stessa cosa da fare Se volete espandere la lega Ma Per espanderla Dovete andare A attivare Questa opzione qui Personalizza lega Poi andando avanti Vedrete che vi porterà qui E qui Su nuova squadra Premete X Andate ad aggiungere Squadra di espansione O anche una squadra vecchia Se volete Scarica design squadra E qui vi ritrovate Nella cosa di prima Stesso ragionamento Pa 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 E vi arriverà La trentunesima squadra Già dall'inizio Quest'anno ho aggiunto Vedo qua sotto Tra l'altro Me ne sono accorto Adesso anche La possibilità di scaricare Già da qui Il roster Creato dagli utenti Con quadrato E questa è una cosa Molto interessante Se invece volete Espandere la lega Nel corso del vostro Rebuild In espansione lega Vedete che qui Si trova la stessa schermata Praticamente Che c'è dall'altra parte Ma Bisognerà aspettare La fine Della stagione regolare E approvare Il cambio di modifica Della regola In estate Che si approverà Tenzialmente da solo Se no Lo approvate voi Manualmente Ricordatevi però Di farlo E poi Dalla prossima stagione Troverete le squadre nuove La squadra nuova Con le scelte Ci sarà il draft Di espansione Tutte queste cose qui Se poi volete Una sorta di tutorial Questo si ve lo consiglio Sui rebuilding in particolare Io anche quello Ve lo lascio in descrizione E di qualche 2K fa I menu saranno Leggermente diversi Ma i concetti Sono esattamente identici Ovviamente La possibilità Di fare la My career O comunque Di giocare con un solo giocatore Non è limitata Al proprio giocatore Creato dal menu Volete farla con Simone Fontecchio Vi mettete il blocco Giocatore su di lui E magari con option Sempre come per cambiare ruolo Andate su Simone Fontecchio Scorrete nei ratings E li migliorate Gli attributi In base a quello Che fate sul parquet Oppure lasciate Che faccia la CPU Andate in fondo E gli aumentate il potenziale Lo mettete a 99 Che ne so Attenzione sempre Ai fattori intangibili Che non si sa bene Cosa siano Io la chiamo La mamba mentality Più li alzate Più sale l'overall E più tante volte Anche Prestazionano meglio Sul parquet di gioco Con i fattori intangibili Per dire a 99 Vedete che è diventato 75 Quando avete fatto Premete option Confermate le modifiche Cosa che potete fare Anche nelle classi draft Se trovate Che Qui non l'ho scaricata Tale Gilbert Arnold Che dovrebbe essere Il più forte di tutti E Sbagliato Andate su Modifica promessa E qui potete andare In attributi A modificare Tutte le cose Che volete O Semplicemente Da informazioni Di base E Scorrendo sotto Li trovate Per dire Vedete Potenziale Potenziale minimo Potenziale massimo Andate a modificare Tutte e tre A vostro piacimento Avete fatto Aggiungo una cosa Che nell'altro No scorso Succedeva sempre E temo Non l'abbiano modificata Quest'anno Non lo so Perché non ho ancora Fatto abbastanza esperimenti Ve la dico lo stesso I giocatori In scadenza Del contratto Da rookie Come potrebbe essere Agbagi Nel 2025 26 Orton Tucker No in realtà Forse Non lo so Mettiamo che sia Nel contratto Scadenza Nel contratto Da rookie Voi avete la possibilità Di rifermarlo Anche sforando Il cup Perché c'è una regola Speciale per l'NBA Per far tenere I giocatori I rookies Potete dare più soldi Supermax Ma non a Orton Tucker E queste cose qui Il problema qual è Che questi Bird rights Sono fatti male Su NBA 2K Perché L'anno scorso Quando tu offrivi Il contratto Al tuo giocatore Lui accettava Inizialmente il contratto Ma poi finiva Che accettava Un'altra offerta Di un'altra squadra E quindi ti trovavi Ad avere il contratto Non scelto da te Che magari con lui Tu avevi fatto un po' Di avanti indietro Avevi guadagnato Magari 1-2 milioni di dollari Di spazio salariale Che magari vogliono dire Un minimo salariale in più Per un buon giocatore Dalla panchina No Ti trovi a strapagarlo Per via di un'altra squadra Allora in questo senso Cosa bisogna fare? Aspettare la moratoria Sapete che nella free Ci sono due fasi La moratoria E quella poi La free agency ufficiale I tre giorni di moratoria Non dovrete offrire niente O al massimo Pareggiare l'offerta Delle altre squadre Allora in quel caso Se lui poi accetta Lo otterrete comunque Con l'offerta degli altri Se lui non accetta L'offerta degli altri Allora sì che da lì Sempre potendo Sforare il cap Super massimo Lo firmate al vostro prezzo Preferito Se fate un'offerta Digitosa rispetto agli altri Ovviamente Tornando al menu principale Nel giocaora Come vi ho detto in precedenza Potete giocare con i roster E le slide scambiate Se le cambiate nel menu principale Sappiate che Qua nascosto in fondo C'è il blacktop Insomma Il campaign Dove potete andare a giocare Con i vostri amici O fare qualche challenge Che ne so Inventatevi quello che vi pare Scegliete qui E poi ci sono i giocatori Da scegliere Ovviamente Se avete cambiato i roster Qui nei roster Del blacktop Troverete i roster Aggiornati Magari con I rapper O gli avengers Non so Cosa possono Può inventarsi La community Sinceramente Della WNBA Non ho toccato La modalità Non vi metto a darvi Consiglio Cose Se siete venuti qui Per cose sulla WNBA Mi dispiace Non so Aiutarvi La 2KTV Non è importante Però Occhio Ricordatevi sempre Che vi da Dei VC O qualche premio Se rispondete correttamente Le domande Quindi se avete piacere Di perdere tempo Su Twitter Trovate anche già Le risposte corrette Adesso Dove di preciso Non lo so Ma mi vengono Dalle pagine Che io seguo Per dire del My Team Il link Dei tweet Con Le risposte corrette E vi porto a casa Qualche migliaio Di VC A settimana Quindi Occhio Diciamo che Secondo me Da quello che mi ero Anche segnato Nelle mie note Dovrei avervi detto Tutto quello Che mi viene in mente Altre indicazioni Sul My Team Potrebbero essere Nel video Sul Come valutare Le carte In maniera migliore E peggiore Che vi lascio In descrizione C'è il tutorial Sui rebuilding Secondo me Potremmo essere A posto Devo dire la verità Ripeto Se manca qualcosa Lasciatelo nei commenti Magari provate a vedere Nel commento Se c'è pinnato qualcosa Che poi mi accorgo Di essermi dimenticato E niente Spero che questo video Vi sia piaciuto Grazie per il supporto Come sempre Mi piace Iscrizioni Abbonamenti Anche su youtube Tutto quello che è Ci vediamo in live Le sere E altrimenti Nei prossimi giorni Con un nuovo video Ciao boys